Come è stato possibile sviluppare dei vaccini così rapidamente? Sì, normalmente ci vogliono 10-12 anni per sviluppare un vaccino. Questa volta ci siamo veramente impegnati, ma non solo noi, tutto il mondo, tutte le ditte farmaceutiche che si sono messe a studiare hanno impegnato scienziati, hanno impegnato risorse notevoli e hanno utilizzato un sistema diverso rispetto alle precedenti meccanismi di autorizzazione all'emissione in commercio. Ovvero, normalmente bisognava rispettare le varie fasi della sperimentazione preclinica, poi la fase clinica 1, la fase clinica 2, la fase clinica 3, prima dell'emissione in commercio, e questo durava anni. Invece, in questo caso, hanno potuto, una volta fatta la fase preclinica, presentare subito i dati all'agenzia che era responsabile per l'autorizzazione. Poi, fatta la fase 1, subito hanno presentato i dati in questo modo, hanno velocizzato il processo notevolmente. Inoltre, sono state impegnate risorse notevoli, economiche e scienziati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS